Buone notizie per i giovani che amano giocare a calcio, direttamente da uno dei salotti televisivi più seguito d'Italia. Il sindaco di Caltanissetta ha detto che in centro presto sarà a disposizione dei ragazzi che amano lo sport, un campetto. Così ha risposto alla richiesta di Cristian Argentati, giovane nisseno appassionato di calcio, che al regolamento che vieta di giocare in piazza chiedeva un'alternativa. La risposta data dal sindaco ha fatto riferimento a una struttura, attualmente in disuso, che sarà presto fruibile come quella in via Dalmazia per il basket. L'assessore allo sport, Fabio Caracausi, ci spiega che stanno valutando più soluzioni, tra le quali quella dello spazio a fianco al bocciodromo in via Angeli, attualmente chiuso. Ma è tutto in fase di valutazione, così da piazza Garibaldi a quella dei fatti vostri, anche in centro storico presto ci sarà una struttura come quella in via Dalmazia, con un campetto per chi vorrà giocare a calcio in tutta tranquillità.